Non si può certo dire che Mike sia un uomo che rifiuta nuove esperienze E allora perché in fatto di grappa... Beh, in fatto di grappa è facile essere fedele alla Bocchino Una grappa dal gusto morbido e pulito Forte ma delicato Viva, nobile E io lo so perché sono stato a Canelli E ho visto come la grappa Bocchino viene prodotta Insomma, concludendo 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 Grappa Bocchino, sigillo nero Grappa Bocchino, sigillo nero